Is it true what they say? Ferraro Assen, Debon Gianpaolo, Filippi Walter, Perif Enzo e Tessaro Massimo! Allora, anche qui abbiamo un assessore allo sport, ricordiamo che loro è un compito alto, con i tagli che ci sono stati, purtroppo i soldi sono sempre meno, però si impegnano. Buonasera a tutti, voglio innanzitutto ringraziare la squadra, siamo pochi ma buoni, come si dice. Puntiamo in alto perché l'anno scorso non è stato un grosso risultato, però puntiamo sicuramente almeno di migliorare il tempo l'anno scorso. Grazie ancora a tutti e buon palio a tutti! Grazie 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 a tutti! 5, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5 5 Quindi qua facciamo in fretta, sarà il nostro sindaco a premiarvi, a mettervi le medaglie al collo, visto che manca il vostro rappresentante. Grazie per la visione!